La storia significa due cose, io direi. Uno, significa il campionario di tutte le cose che gli esseri umani hanno fatto in passato e stanno ancora facendo. E' chiaro che la storia non si ripete mai uguale, per cui le situazioni cambiano sempre e non c'è nessuna legge storica precisa, non c'è nessun insegnamento che si possa formulare in modo così proprio chiaro che vale per sempre, ma se non ti dà insegnamenti precisi, però ti dà una collezione di esempi. Voi immaginate in qualunque situazione vivere senza sapere se qualcuno prima si è già trovato in una situazione simile, oppure vivere sapendo che altri ci si sono già trovati. Fa una certa differenza, non risolve tutti i problemi, non ti garantisce di non fare anche tu un sacco di errori, ma ti dà una carta in più e te la dà a tutti i livelli. Te la dà se sei il politico o il generale che deve prendere decisioni a nome di tutti, ma anche da persona normale che vive nel suo tempo, sapere se certi problemi si sono già presentati. Che ne so se in passato c'è già stato un mondo ricco, potente, chiuso nei suoi confini, con una folla di gente fuori che viveva male e voleva entrare. C'è già stato? È certo che c'è già stato, l'impero romano era quello. E cosa ha fatto l'impero romano a quel punto? Ha chiuso le frontiere per tenere tutti fuori? Oppure le ha aperte per farli entrare? No, le ha aperte per farli entrare. Per secoli l'impero romano ha fatto entrare immigrati. E cosa è successo? È successo che per secoli l'impero romano gli immigrati li ha integrati con regole precise, rispettando le promesse che gli faceva e chiedendo a loro che a loro volta rispettassero delle regole. E per secoli l'impero romano dei flussi di immigrazione ha tratto forza. E poi è anche vero che a un certo punto le regole sono saltate e l'amministrazione romana non è più stata capace di gestire con chiarezza queste cose ed è andato tutto a finire molto male. E dunque la storia è una collezione di precedenti, ecco. E più precedenti conosci, meno sei al buio. Uno che non ha mai letto un libro di storia non ha nessuna idea di cosa è successo alla gente prima del nostro tempo. E quello lo rende più debole nel capire il mondo. E poi c'è un'ultima cosa, ed è il fatto che sapere la storia ti permette di mettere in prospettiva il nostro mondo. Il nostro mondo, i suoi valori, le sue istituzioni. Un conto è considerarli come delle cose date, che ci sono sempre state. Un conto è sapere come sono venute fuori. Se uno discute l'autorità del Papa nella Chiesa è bene sapere che la Chiesa non è sempre, la Chiesa cattolica intendo, non è stata sempre strutturata come oggi. E che il Vescovo di Roma non è stato sempre dato per scontato che dovesse essere il capo della Chiesa e tutti gli altri Vescovi i suoi subordinati. È interessante sapere che per i primi mille anni i Vescovi erano tutti uguali, eletti sul posto e non nominati. E che solo a un certo punto, una certa evoluzione storica porta all'affermarsi di un potere come quello del Papa. Se uno oggi dovesse discutere nella Chiesa cattolica il celibato dei preti, e beh, è diverso credere che ci sia sempre stato e sapere che invece è stato inventato a un certo punto. Che per mille anni i preti si sono sposati tranquillamente e che solo dopo l'anno 1000 si è affermato un movimento che diceva no, non si devono sposare. E ripeto, non è per un partito preso che parlo di cose religiose, ma forse sono gli esempi dove è più chiaro il fatto che rischi di vedere certe cose come sacre e invece quando le cali nella storia scopri che sono cose fatte dagli uomini. Se uno vede oggi certi paesi islamici andare verso una deriva di estrema intolleranza, per cui è sempre più difficile vivere in certi paesi islamici se sei cristiano o ebreo. E il rischio di chi non ha un passato è di dire vedi, l'islam inevitabilmente è intollerante. E quindi non c'è altro da fare che combatterli, noi o loro. Se uno studia la storia semplicemente hai una prospettiva in più. Se uno studia la storia scopre che ci sono state epoche, non è questa, ma ci sono state epoche in cui il mondo islamico era più tollerante di quello cristiano e allora il risultato non è di dire, vabbè, chiediamo scusa, no, no, l'integralismo e l'intolleranza vanno combattuti. Ma non dicendo perché se sei islamico sei intollerante per forza, perché la storia ti dimostra che come affermazione questa è falsa. E allora magari anche qui il modo in cui gestisci i drammi del nostro tempo può cambiare, a seconda che tu abbia un background storico o che tu sia Donald Trump invece.